Ciao amici del Club delle Ricette! Prepariamo insieme il tiramisù al cocco senza uova. In una ciotola mettiamo il mascarpone e lo zucchero e lavoriamo con le fruste. Aggiungiamo il cioccolato bianco fuso e lavoriamo. Uniamo ora il cocco rapè, un po' di latte di cocco e mescoliamo. Montiamo la panna fresca e incorporiamola facendo attenzione a non smontarla. Grazie a tutti! Mettiamo in un piattino il caffè, il latte di cocco e mescoliamo. Bagniamo per bene i savoiardi, disponiamoli in una pirofila. Facciamo uno strato di crema. Grazie a tutti! Spolveriamo con cocco rapè e facciamo un altro strato di savoiardi e infine di crema. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Cospargiamo con cocco rapè. Decoriamo con scaglie di cocco essiccato. Ecco pronto il tiramisù al cocco senza uova. Per tantissime altre ricette ricordati di scaricare gratis la nostra app. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!